Pacatamente, tranquillamente, com'è nel nostro stile, vogliamo dire Ma che cazzo ci fa uno come Fioramonti al Ministero dell'Istruzione? Allora, il Ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, si è già segnalato per le sue grandi idee su come risolvere i problemi della scuola. Tassare le merendine, ad esempio, potrebbe essere un primo passo importante un secondo passo importante, potrebbe essere levare i crocifissi dalle pareti ma sicuramente il Ministro sta pensando anche a qualche cos'altro di altrettanto rilevante. C'è un piccolo problema. Il Ministero dell'Istruzione dovrebbe essere eretto da persone che sono pacate, tranquille non quindi come me. Però oggi leggiamo sul giornale una raccolta di pensieri, se così vogliamo definirli, del Ministro sullo scibile umano. Sono tratti da una pagina Facebook del 2013 ma credo che il giornale ne abbia in serbo anche altri successivi. Qualcosa me lo dice. Dunque il Ministro diceva su Berlusconi, ma su tutti, se la prende con tutti La marcia trionfale dell'imperatore e della sfiga, altro che uomo di successo questo porta sfiga all'Italia, per il bene di tutti il potere iettatore di Berlusconi in Anno si riferiva al terremoto in Abruzzo. Su Ferrara Giuliano Ferrara, un'altra merda con i denti separati, uno schifoso, che solo in Italia può passare come intellettuale. Sulla Sant'Anché Una demente, bugiarda e venduta, ma che donna un personaggio raccapicciante e disgustoso se fosse una donna mi alzerei e le sputerei in faccia con tutti gli zigomi rifatti. Sulla polizia La polizia, allora come oggi, allora sarebbe all'epoca del G8, gli eventi della caserma Diaz sembra più un corpo di guardia del potere invece che una forza a servizio dei cittadini pochi poliziotti per bene hanno paura di far sentire la propria voce quindi il nostro ministro della scuola aveva un passato da hater su Facebook ma anche un filo sessista, questo bisogna dirlo quando Giuseppe Giangrande, il carabiniere, fu ferito davanti a Palazzo Chigi sì, a Palazzo Chigi disse e ora tutti a prendersela io gli fu sparato, se ricordate ora tutti a prendersela con chi protesta perché poi arrivano i pazzi che sparano ma io mi meraviglio che ce ne sia stato solo uno un demente che ovviamente ha finito con incolpire altre vittime del potere proprio come lui sono toni sconcertanti questo è il ministro dell'istruzione quello che ha scritto una circolare probabilmente illegale ai presidi chiedendo loro di giustificare gli alunni che hanno partecipato allo sciopero per l'ambientalismo ecco se un intellettuale di questo spessore riesce ad arrivare lì dove una volta stava seduto Benedetto Croce diciamo proprio a posto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti